Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come impostare un cronometro in snaz per Twitch. In altre parole, in un precedente video vi avevo parlato del conto alla rovescia, questa volta vi parlo del cronometro. Se magari volete mostrare ai vostri spettatori il tempo trascorso nella live o il tempo impiegato per completare un gioco, allora questo tutorial potrebbe fare al caso vostro. Prima di tutto avviate snaz, potete scaricarlo tramite il link che vi allego nella descrizione. Andate su Kronos e tenete in considerazione Krono App, quindi cliccate sulla freccia per azzerarlo. Cliccate su Start per far partire il cronometro. Ora dovete importare il cronometro in OBS o Streamlabs OBS. Io utilizzo OBS e Streamlabs OBS, però alla fine l'uso è indifferente. La procedura è la stessa per entrambi i software. Quindi una volta che avete lanciato OBS dovete configurare il cronometro. Quindi cliccate su più, cliccate su testo, Chiamatelo ad esempio Cronometro e cliccate su OK. Ora qui cliccate su Leggi da file, qui cliccate su Copy Pet e qui cliccate su Sfoglia. Incollate il percorso, cliccate su Apri e come vedete il cronometro compare come per magia su schermo. Ovviamente potete personalizzarlo come volete, scegliendo il colore, la dimensione, la posizione e così via dicendo. Assicuratevi ovviamente che il cronometro sia in cima, altrimenti viene oscurato dal gioco o da qualsiasi altro contenuto state mostrando. Per fermare il cronometro cliccate su Stop, qui lo azzerate e qui lo rilanciate. E come per magia comparirà nella vostra live.